Vorrei fare un paio di precisazioni sull'inchiesta che stiamo seguendo sulla verità, visto che molti scrivono ma come adesso siete diventati tifosi dei lockdown, ma come adesso siete diventati tifosi delle mascherine, ma come tutti voi che chiedevate le aperture adesso ve le prendete col PD solo per difendere i vostri amici centrodestra, a posto che io non sto difendendo proprio nessuno, a me non interessa destra, sinistra, forse non è chiara una cosa. Un conto è fare un lockdown a livello nazionale indiscriminato come misura di cieca disperazione, come disse Walter Ricciardi, consulente del ministro Speranza, un altro conto è cercare nella fase iniziale in cui non si sa nulla della nuova malattia di fare delle chiusure mirate e molto rapide. Io non so se avrebbero funzionato, probabilmente no, perché il virus già circolava da tempo in Lombardia e nel nord Italia, però sicuramente sarebbe stato meglio chiudere piccole zone prima con razziocinio e documentarsi su quello che stava accadendo rispetto a fare così una chiusura, una serrata totale dannosa per chiunque. La cosa più fastidiosa peraltro che emerge dalle carte di quell'inchiesta che non sono poi state prese in considerazione, o meglio forse sono state così citate a passare in qualche passaggio dell'inchiesta, ma non sono una parte rilevantissima della grande inchiesta di Bergamo che ha riguardato appunto la gestione delle prime fasi Covid. Lì dentro emerge la totale mancanza di razionalità, il totale caos in cui si muovevano, la totale assenza delle linee guida, la mancanza di un piano pandemico. Gli interessi che venivano messi al centro della questione, contano di più le pressioni degli imprenditori per aprire o chiudere rispetto al benessere evidentemente dei cittadini. In assenza di un piano pandemico ci si muoveva così all'impronta e si cercava questa o quell'altra via di uscita, si provava a fare varie questioni e a dire ma chiudiamo perché dobbiamo farlo, però gli imprenditori ci chiedono lasciare aperto allora proviamo a fare la deroga per le grandi aziende, le piccole però possono chiudere, invece poi gli imprenditori cambiano idea e allora di nuovo cambia idea anche il partito, cambiano idea i vertici locali del Partito Democratico, insomma è tutto un racconto che se non altro anche come esigenza di verità va riscritto, va messo nero su bianco, va messo agli atti. Ecco lo scopo di questa inchiesta è solo questo non cambiare idea sul lockdown, sul Covid, io penso che siano stati deliranti i lockdown, sbagliati penso che le mascherine come misura di salute pubblica non siano state efficaci, ma non è che lo penso io lo dicono gli studi e dopodiché però forse nei reparti servivano, nei reparti degli ospedali e non c'erano e in quell'inchiesta abbiamo raccontato, io e Alessandro Rico e il nostro giornale La Verità abbiamo raccontato che il fratello di Giorgio Cori che è un medico importante diceva guardate che qui dobbiamo selezionare chi vive e chi muore, quindi questo è il punto il punto non è cambiare Gabbana, voltare Gabbana a seconda dei politici coinvolti, il punto è che non doveva essere gestito in questa maniera, è stata una gestione folle scriteriate dannosa da tutti i punti di vista con mille cambi d'idea da parte delle istituzioni motivati da che cosa? Di certo non dai dati né dalla scienza né dai consigli di chissà quale luminare che si basava sugli studi